Hey, Hoxton here. I'm here to say subscribe to Everett the White Spider now. If you don't, you're a fucking wanker. Invece, avere la mod Heavy Security. Cos'è Heavy Security? L'avrete già vista magari in giro. Fa spawnare una specie di guardia del corpo a fianco, o meglio, dietro le guardie dentro la mappa. Io stavolta ho scelto lo Skull Dozer, però ci sono anche altre guardie del corpo che potete scegliere. I Clocker, i Taser, anche Hector, a quanto ho visto. È figo. Quindi aggiunge un pochino di pepe nello stealth. Perché? Perché prima di fare fuori la guardia dovete fare fuori la loro guardia del corpo. Perché? Ovviamente. Perché nel momento in cui io sparo a una guardia, la uccido subito. E boh, questo normalmente. Però, se sparo alla guardia e non sparo alla guardia del corpo, quindi sparo prima alla guardia normale e poi in questo caso al Bulldozer, il Bulldozer si allerta e non è più possibile ucciderlo con un colpo come ho fatto adesso nella stanza delle telecamere. Quindi, prima di colpire una guardia, dobbiamo colpire il Bulldozer. Ovviamente se si tratta di un Bulldozer, però ovviamente nel momento in cui non si tratta di una guardia normale, ma di un nemico speciale di qualsiasi tipo, è molto meglio colpire prima il nemico speciale. Quindi, aggiungo un pochino di pepe, dicevo perché comunque c'è il doppio della sicurezza, i pager restano gli stessi, però mi sa che è possibile modificare anche quelli. Ed è un pochino più difficile la mappa. Io adesso ovviamente vi ho portato la banca normale perché volevo provare questa mod, però se vi piace il video, vi piace l'idea, posso portarvi anche mappe un po' più difficili, tipo il casino, tipo Breaking Feds, cioè rubare federali, il diamante e cose del genere. C'è anche un'altra mod, che si chiama Enemy Replacer, che sostituisce i nemici, comunque le guardie e anche i civili, puoi scegliere anche i civili, con nemici che scegli tu. Non so, per esempio, dentro il diamante possiamo fare tutte le guardie e tutti i civili che sono dei clocker, lo possiamo fare. Puoi scegliere anche che abbiano o non abbiano in cerca persone, sia le guardie ma anche i civili. Quindi ci si può giostrare un po' da questo punto di vista. Fatemi sapere magari qua sotto, mentre ascoltate il video, se volete una cosa del genere, se vi piace la possibilità di sostituire tutti i nemici e anche i civili con nemici di vari tipi. E magari scrivetemi anche di che tipi. Comunque, ecco, volevo arrivare proprio qua. Io questa guardia l'ho uccisa senza sparare. Perché? Perché l'Advanced Movement, che è la mod che ho usato per fare la mappa Parkour e anche Diamond Runners, ha la possibilità di avere un attacco, tra virgolette, mele, non comandato da me o comunque da chi gioca con la mod, ma è una conseguenza di chi praticamente scivola, corre e scivola sul pavimento usando ovviamente le feature dell'Advanced Movement Mod. È figo, perché comunque è una cosa che in stealth magari è un pochino inutile, perché comunque bisogna usare la judge o comunque qualche fucile a pompa per far volare esattamente dove vogliamo i cadaveri delle guardie. Però comunque potrebbe essere utile in Loud, perché magari siete circondati, magari su un piano rialzato come può essere, non so, Reservoir Dogs o comunque anche la mappa del diamante dove ci sono le scale, e c'è qualcuno che vi spara al di sotto, possiamo usare la feature dell'Advanced Movement, cadere di sotto però non magari farci male o levarci l'armatura per quanto riguarda i danni da caduta, perché riusciamo a uccidere o comunque colpire qualcuno. Io adesso non so esattamente quanto faccia male in Loud il calcio, quindi la feature dell'Advanced Movement, però comunque potremmo provare a fare delle prove. LOL. E io in questo momento ovviamente sto mettendo giù la banca, a mio modo, quindi se avete dei soldi da sprecare fate pure così, ma se siete magari non da soli e con amici, riuscite comunque a mettere giù la banca senza magari uccidere nessuno, o non così tanti come sto facendo io. E raga, io ovviamente ho piazzato adesso il trapano, sto vedendo dov'è l'ultima guardia, vi ho accelerato un po' il tempo perché è un po' lenta questa parte, però io avevo fatto vedere dov'era la guardia tra vite le telecamere, l'ho uccisa, l'ho fatta volare da un'altra parte, ho risposto a cerca persone, e tra poco metterò giù la banca, perché comunque ho fatto fuori tutti, non ci sono più guardie né dozer, quindi posso andare direttamente con l'ECM Rush, il solito, il classico, e all'inizio non lo volevo fare, poi ho detto vabbè chi se ne frega facciamolo, uccidiamo un po' gli civili così passiamo il tempo, e basta. Tra poco il vault si aprirà, il vault si aprirà, e prenderemo ovviamente la borsa di soldi all'interno, e tra l'altro io ho messo come asset anche le chiavi del cavo, però non c'è stato neanche bisogno, perché la porta era già aperta. Raga, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando commentate se volete altre mappe di questo tipo, e o con la enemy replacer, spero che mettiate mi piace, che commentiate e che vi iscriviate a questo canale. Ciao a tutti ragazzi!